Gigi Maurino, buonasera, pilota della scuderia 011 Racing di Torino. Raccontaci quali sono i tuoi programmi futuri, anche nell'immediato. I programmi futuri sinceramente non ho ancora avuto tempo e modo di vedere un attimino per quello che riguarda il programma futuro, anche perché non sapevo ancora le gare, quello che ci farò per il prossimo anno, quindi per adesso non ho ancora niente in programma. La tua scuderia, anzi, noi sappiamo che tu ti appoggi a un preparatore di auto che è Miele Racing di Cuneo. Ho sbirciato un po' sul sito, l'auto che prepara per voi quale caratteristiche ha? È un Clio R3 con circa 248 cavalli, quindi la massima rivoluzione che si può avere sul Clio R3 in base ai regolamenti che ci sono, tramite la Renault Sport, è il massimo della preparazione. E con questa macchina che avete vinto il trofeo Renault, zona A? Sì, con questa macchina ho vinto il trofeo di zona A, gruppo A. E com'è andata questa gara? Che tipo di gara è stata? Come l'hai vissuta? L'ultima gara è stata all'inizio un po' burrascosa, perché abbiamo fatto un dritto sulla seconda prova, mi sono quasi girato sulla prima, quindi è stato un inizio un po' su... Poi dalla terza in avanti è andata meglio. E direi anche grazie al tuo secondo che era con te sulla macchina? Sicuramente, perché sulla prova di Prarostino, che era una prova molto guidata e molto difficile, era importantissima la figura del navigatore.